Ben trovati a Prima Pagina, amici di Prima Radio, consueto appuntamento del weekend. Oggi un'intervista la facciamo con un politico che sembra decisamente convinto di lasciare una comoda poltrona al Senato italiano per andare a sedersi su quella che politicamente è una delle poltrone più scottanti d'Italia, quella del nuovo sindaco di Palermo. Naturalmente il riferimento è al senatore Davide Faraone, palermitano, attualmente impegnato a Roma con la legge di bilancio ma che ha trovato il tempo per collegarsi con Prima Radio. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti i radioscoltatori. Senatore, sei davvero convinto di cambiare la tua poltrona a Palazzo Madama con quella di Palazzo delle Aquile? Io sì, bisogna capire se sono convinti anche i palermitani di votarmi e di fiducia. Io non vivo questo come un sacrificio perché Palermo è la mia città, la città che amo. So che la situazione è disastrosa e riterò qualora dovesse diventare sindaco una città in dissesto finanziario con una grandissima crisi anche alla gestione dei servizi. Però ripeto, sono nato a Crillas, sono cresciuto a San Lorenzo, allo Zen, ho fatto per 10 anni del consigliere comunale a Palermo. Poi da un po' faccio esperienza politica nazionale e ho acquisito esperienze e relazioni. Credo che giunge un momento in cui tutte le esperienze fatte e le relazioni costruite debbano essere messe a servizio alla propria città. Si intuisce il tuo desiderio da palermitano di far qualcosa per la città dove sei nato e dove vivi? Perché dal punto di vista personale credo non avresti molto da guadagnare, anzi perderesti dal punto di vista economico e dal punto di vista della serenità. Personalmente da un punto di vista egoistico io te lo auguro di perderla questa serenità perché significa che ti conosco da anni, so che sei una persona seria che metterebbe tutto l'impegno necessario per risolvere i tanti problemi di Palermo, però poi l'impegno è il tuo e di conseguenza anche della tua famiglia. No, ma io devo dire che intanto tutte le volte che sto a Palermo, comunque perché ci sto parecchi giorni a settimana, non ho mai fatto la vita da emigrante trasferito sempre a Roma, la residenza a Palermo, scendo tutte le settimane, ho la mia famiglia, ho mia figlia, Sara e poi faccio esercito il mio impegno civico anche nei giorni in cui sono a Palermo, per cui conosco benissimo la situazione del Comune, non l'ho abbandonata neanche un po', ho sempre portato avanti i provvedimenti qui a Roma utili per Palermo, per cui non sono quello che si è estraniato in questi anni dalla politica cittadina e a un certo punto ricompare, sono stato costantemente a contatto con i problemi e per quello che mi è stato possibile li ho affrontati e in molti casi risolti, quindi naturalmente è chiaro, fare sindaco della quinta città d'Italia in quelle condizioni è gravosissimo, è pesantissimo, è molto più rischioso, oggi fare sindaco vuol dire alzare di gran lunga le probabilità di avere un avviso di garanzia per abuso d'ufficio, per qualunque altro reatto che può venire fuori nella ordinaria amministrazione, quindi anche la persona più onesta può trovarsi sotto indagine, si guadagna molto meno, si rischia molto di più, però ripeto, siccome io credo che in politica debba contare, così come nella vita, innanzitutto la passione civica e a me fare il sindaco della mia città mi dà molta gratificazione, per cui lo faccio molto volentieri, non vivo tutto questo come un sacrificio. Capisco benissimo, senti intanto qualche giorno fa hai preso il tuo scooter, hai fatto un giro per la città per fare un censimento delle buche, cos'hai trovato? L'ennesima prova di un'amministrazione che sta mostrando il peggio di se stessa, lo dico con grande rammarico perché io, comunque Orlando è una persona che stimo e che credo abbia dato tanto per Palermo, ma questi ultimi anni sono un calvario, sono proprio gli anni di un giocatore a fine carriera che però continua a stare in campo mentre magari potrebbe andare a fare l'allenatore o fare qualcos'altro. Questa delle buche è proprio l'ultimo dei segnali della cattiva amministrazione, se ne occupava la RAP della riparazione delle strade, l'amministrazione toglie il servizio alla RAP, però il problema è che non l'affida a nessun altro e rinvia l'indizione della gara per individuare chi dovrà sostituire la RAP di qualche mese dopo, c'è come se tu decidi di traslocare, di cambiare casa e stacchi le utenze telefoniche, le utenze della luce, del gas, prima di fare il trasloco, c'è una follia e questi hanno fatto così, quindi se uno gira per Palermo si rende conto che ci sono strade che sembra Beirut, più che Palermo quella città, con il rischio per l'incolumità pubblica, con gravi danni economici anche per il comune, perché è chiaro che tutti i danni alle automobili, i danni anche fisici alle persone, poi si comportano denunce, risarcimenti danni, quindi una situazione disastrosa, ho deciso di prendere il motorino, di girare per verificare quanto ce ne fossero, perché io credo, ho chiesto al Sindaco di agire con la modalità della sommorgenza per riparare le buche, perché credo che sia un tema assolutamente d'emergenza e quindi può esercitare questo strumento, non lo ha fatto, allora abbiamo deciso di realizzare una mappa delle buche, una sorta di geolocalizzazione in modo da dire che i palermetani sono lì, evitatele, un po' una provocazione naturalmente. Sabato scorso, la puntata di Prima Pagina, l'ho dedicata ad un video promozionale della città di Palermo, durante il quale Leoluca Orlando accompagna in questo percorso virtuale lungo la nostra città. Un video sottotitolato in inglese, fatto benissimo, con una straordinaria professionalità, dove si evidenzia tutta la bellezza di Palermo, di cui spesso noi non ci accorgiamo tanto e imbruttite. Allora mi è scaturita una rabbia doppia, perché è un video questo, che ho pubblicato pure sulla mia pagina e su quella di Prima Radio, che evidenzia quanto potenzialmente bella la nostra città e quanto invece purtroppo è imbruttita. Questa sensazione dell'equivoco, della contraddizione, la suscita anche in te la città di Palermo? Assolutamente sì, fa crescere in me la rabbia di quello che potremmo essere e che non siamo. Il dramma è che Orlando vende fuori una cosa che non esiste. Dobbiamo ammettere che è bravo a vendere Palermo. È molto bravo a farlo e devo dire che questo ci aiuta anche nel turismo. Il problema però qual è? Che poi incontri le guide turistiche, le ho incontrate nel mio tour in queste settimane, e ti dicono, noi portiamo in giro i turisti, ci dicono tutti quanto è bella la città, ma poi tutti ci dicono perché è così sporca, perché ci sono questi sacchi dell'immondizia accatastati accanto ai più bei monumenti, perché ci sono le auto parcheggiate a Piazza Garraffello attorno alla fontana. E questi turisti noi non sappiamo più che scusa inventarci. Quindi il tema è che Palermo ha dimostrato in questi anni di essere una città rinata, che è cresciuta, che ha sicuramente suscitato interesse. I flussi turistici dimostrano che su Palermo si viene sempre più spesso. Il problema è che poi molto spesso i turisti vanno via delusi per quello che vedono, non della città e del patrimonio che offre, ma dei servizi che non funzionano, della sporcizia e di tutto il resto. Questa concezione per cui Palermo è una città araba, perché Orlando in giro va sempre dicendo questa storiella, Palermo è una città araba e quando dice araba sottointende che quindi se c'è sporcizia, se c'è disordine, se c'è illegalità va bene così, perché è comunque una caratteristica della città, io è una cosa che non riesco ad accettare, non mi rassegno che sia così. Vedere che ad esempio sui rifiuti c'è una raccolta differenziata ferma nel 2019 al 16%, dovremmo arrivare al 60%, che l'ulteriore 40% dovremmo bruciarlo grazie a dei impianti di termocombustione che potrebbero farci tagliare anche i costi delle bollette, perché poi con il riscaldamento prodotto tagli i costi della luce ai palermitani, tutte queste cose qui non le fai e quindi sei sempre fermo in una città sporca. Certo. Davide, io ti ringrazio, ma ti lascio con una provocazione, un po' come quella che hai fatto tu col tour delle buche. Io qualche mese fa ho prospettato una nuova figura, un nuovo ruolo per Leoluco Orlando nella prossima amministrazione, a prescindere dall'aspetto politico. Immagino Leoluco Orlando come ambasciatore, come rappresentante nel mondo per la città di Palermo, un ruolo credo che lui possa fare meglio di chiunque altro. Se dovessi avere l'onere e il piacere di diventare sindaco di Palermo, prenderesti Orlando come consulente per l'immagine della nostra città nel mondo? Ma io credo che quando Orlando non sarà più sindaco, l'immagine che dobbiamo dare è l'immagine di volti nuovi e freschi che amministra la città. Io la sovrapposizione con volti che per decenni stanno ad amministrare la città, per quanto io stimi Orlando e apprezzi tante cose che ha fatto e valuti molto bene l'importanza di quello che ha rappresentato per Palermo, però è il momento di voltare pagina, quindi di far vedere nuovi volti e far capire che Palermo non è una città-stato ma è con un potestà, con qualcuno con cui sostanzialmente ha sovrapposto tutta la sua immagine, anche personale, ma c'è tanto altro su cui si può investire. Grazie Davide Faraone, ti lascio alla tua legge del bilancio e ti aspettiamo prima di Natale nei nostri studi di Palermo. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Ciao, buon lavoro. E con i saluti del senatore Davide Faraone, candidato a sindaco di Palermo, chiudiamo prima pagina che naturalmente torna nel prossimo weekend. Grazie a tutti. Grazie a tutti.